Due giorni dopo parliamo della gara del moto mondiale che si è corsa in Germania al Sachs Ring domenica in quello che ormai è il consueto post gara del martedì per quanto riguarda il moto mondiale sempre che non ci sia la contemporaneità come spesso succede con la Formula 1 che qui sul canale ha priorità così come ha priorità in questo Racing Podcast quello che è successo in MotoGP perché è tornata la vittoria Marc Marquez e c'è da celebrare evidentemente quella che a tutti gli effetti è un'impresa sportiva del pilota spagnolo al netto che io non sono un suo tifoso ma quando c'è da celebrare qualcosa di straordinario come questa vittoria di Marquez è giusto farlo parleremo poi anche di Moto2 e Moto3 dove i mondiali sono fortemente indirizzati verso Red Bull KTM Aio ma quello che appunto fa banco da un paio di giorni a questa parte è il ritorno alla vittoria di Marc Marquez una vittoria insperata quanto straordinaria e gli addetti ai lavori davano il pilota spagnolo sicuramente come uno dei favoriti dicono addirittura il podio per le previsioni che si erano viste nelle libere e nelle prove non tutti anzi quasi nessuno in realtà si aspettava un Marquez capace addirittura di vincere in una pista comunque sua perché ricordo che prima di domenica Marquez era letteralmente imbattuto nella pista della Sassonia sono state 10 le vittorie prima di quella di domenica con quella di domenica saliamo a 11 perché Marquez ha vinto? ha vinto perché il circuito del Saxe Ring è sinistrorso quindi con la maggioranza di curve a sinistra rispetto a destra storicamente anche quando Marquez era al 100% dominava in circuiti del genere vedi per esempio anche Aragon a maggior ragione poteva dire la sua in un circuito sinistrorso quindi appunto con curve maggioranti a sinistra perché appunto col braccio infortunato che è il destro non poteva evidentemente sforzarlo visto appunto che Marquez è lo stesso in decorso post infortunio in una pista dove appunto il braccio destro veniva molto poco sforzato evidentemente poteva sfruttare appieno il talento che comunque al netto che Marquez è un passaggio abbastanza controverso per essere buoni non gli è mai mancato e questa vittoria non è evidente la dimostrazione Marquez a essere onesti ha dominato questa gara del Saxe Ring c'è stata la tentata rimonta di Miguel Oliveira che comunque ha fatto una signora seconda posizione e poi ha completato il podio Fabio Quartaro con la Yamaha ufficiale che salva un po' la giornata della scuderia giapponese ma questa che vedete è un'immagine molto significativa soprattutto per i tifosi di Mark Marquez che evidentemente lo aspettavano al grande ritorno è una vittoria che è importantissima non per il titolo del mondo perché comunque Marquez è già ampiamente tagliato fuori ma è una vittoria fondamentale per il morale perché appunto Marquez nelle gare precedenti aveva raccolto soltanto due piazzamenti a punti e tre cadute e correva appunto in condizioni abbastanza precarie per essere abbastanza gentili ed evidentemente una vittoria qui per gli anni prossimi potrebbe far tranquillamente paura perché se Marquez non solo dal punto di vista fisico recupera anche dal punto di vista mentale e attenzione perché evidentemente tornerà il Marquez che vinceva i titoli del mondo a ripetizione c'è gloria comunque anche per un suntuoso Miguel Oliveira che finisce secondo con la KTM Oliveira è il pilota diciamo rivelazione di queste ultime tre gare ma è ovvio che la scena se la prende indubitabilmente lo spagnolo che qui sul Saxering ha annichilito la concorrenza già in Austria la musica sarà diversa anzi in realtà a Olanda in Austria ci corre la Formula 1 ma questa vittoria ripeto fa tanto tanto morale per lui e per i suoi tifosi in una classifica che adesso andiamo ad approfondire meglio vede ancora una volta Fabio Quartararo come primo della classifica con il podio conquistato Marquez con la vittoria sale a 41 punti decimo complessivo del campionato mondiale MotoGP considerato che comunque ha fatto due gare in meno perché in Qatar ha corso Stefan Bradel per Marc Marquez suona ancora una volta in carriera la marcia reale dicevo secondo è Miguel Oliveira uno che se non ci vuole stato Marquez sarebbe sicuramente il mio rider del giorno ma con la prestazione di Marquez di domenica è indubitabilmente lo spagnolo e il rider del giorno mi ha detto che comunque Oliveira è una serissima candidatura perché appunto due secondi posti e un primo nelle ultime tre gare da segno non solo che quanto Miguel Oliveira sia un signor talento ma da segno che comunque la KTM ufficiale sta continuando questo percorso incredibile di crescita terzo è proprio Quartararo che fa quello che faceva di fatto Marquez con la Honda fino all'anno scorso ovvero Quartararo guida sopra i problemi della Yamaha e tutte le altre Yamaha sono after the music ed è la storia un po' appunto del pilota francese appunto come Marquez guidava benissimo la Honda e le altre onde facevano pietà oggi Quartararo ha guidato bene la Yamaha ma le altre Yamaha sono finite veramente anche una volta dopo la musica Quartararo infatti finisce terzo tutte le altre Yamaha addirittura fuori dai punti perché Valentino Rossi finisce 14esimo anzi in realtà nei punti c'è arrivato ma comunque ha fatto una gara in colore le altre due Yamaha morbidelli e Vignale sono addirittura penultimo e ultimo qualcosa di veramente clamoroso gli altri piazzamenti andiamo a verificarli quarto Brad Binder con la seconda KTM ufficiale la testimonianza che la causa austriaca anche in MotoGP è cresciuta e non poco quinto è Francesco Bagnaia e una Ducati che comunque doveva difendersi e una pista dove il motore doveva assolutamente recitare una seconda parte una Ducati onesta va detto non una prestazione pazzesca ma neanche una prestazione totalmente in colore una prestazione appunto senza infamie e senza lode con appunto Quinto Bagnaia e sesto Jack Miller che comunque con il sesto posto va a tripla cifra nei puteggi del campionato del mondo la sestima posizione per un'Aprilia che conferma con Alessio Spargarò di avere comunque ancora dei progressi Alessio Spargarò ha fatto una prima fila straordinaria per i mezzi che ha ed è finito ancora una volta in zona punti a un attimo era anche a lottare con Marquez per la prima posizione nei primi giri poi è andato via via scemando Johan Zarco finisce ottavo Zarco è una mezza delusione anche lui perché evidentemente doveva probabilmente capitalizzare meglio la pole position della qualificazione invece si ritrova soltanto ottavo in una gara che lo ha visto più difendersi che attaccare non a posizione per il campione mondiale in carica Johan Mirko una Suzuki che in realtà ha fatto abbastanza fatica chiude la seconda onda ufficiale la zona punti con Takahaki Nakagami parentesi sugli altri italiani Danilo Petrucci è caduto e si è ritirato Valentino Rossi abbiamo detto è finito quattordicesimo in una gara anonima così come il fratello Luca Marini finisce quindicesimo fuori dai punti morbidelli a segno di una Yamaha in generale che ha fatto veramente pietà perché appunto ripeto ancora una volta tolto Fabio Quartarò morbidelli Rossi e Vignale sono finiti veramente after the music con appunto il migliore il pluricampione marchigiano con una quattordicesima posizione che veramente rende giustizia anziché no si è ritirato purtroppo Lorenzo Salvadori che comunque quando correva in pista era ai margini della zona punti peccato perché poteva essere la terza gara a punti consecutiva per quello che di fatto è un collaboratore dell'Apriglia i premi li abbiamo anche dati quindi con una rider del giorno con Mark Marquez delusione di Razor Co perché in una gara del genere probabilmente poteva difendersi meglio soprattutto sfruttando la pole e passiamo adesso al podcast brevissimo riguardante le altre categorie partendo dalla Moto2 un mondiale Moto2 che evidentemente è ancora più indirizzato verso Remy Garner che c'entra la terza vittoria di fila in questa stagione e allunga in modo sensibile su Raul Fernandez è un mondiale Moto2 che evidentemente si gioca in casa in questo caso scusate il gioco di parole KTM Haio ha dato due moto di livello ai due piloti Garner è un pilota molto esperto perché ha il quinto o sesto anno di Moto2 e l'anno prossimo a Dream MotoGP deve affrontare però un Fernandez che di fatto sarà il rookie dell'anno di questa Moto2 una classifica che vede appunto la lunga decisiva appunto di Garner anche perché Fernandez è caduto e ha lasciato spazio agli altri piloti per il podio per Remy Garner è la terza vittoria consecutiva e per lui suona ancora una volta Advance Australia Fair Garner è il pilota più in forma ha fatto quattro poli nelle ultime quattro gare e la gara che non l'ha vinta l'ha persa ai dai del suo campionato di squadra quindi sono quattro vittorie consecutive per KTM Haio seconda posizione per Aaron Canet della Bosco Scuro Clienti se vogliamo usare un termine un po' tratto dalle MotoGP una Bosco Scuro che ha fatto molta fatica in questo inizio di stagione ma con Canet si sta avendo sicuramente l'unico lampo di luce della loro stagione seconda posizione per lo spagnolo e terzo Marco Bezzecchi che appunto completa ancora una volta un campionato costante una gara costante meglio che però non può mai intaccare le prime due posizioni appunto perché tranne case eccezionali appunto vedi per esempio la caduta di Fernandez il podio quantomeno per le posizioni alte è abbastanza precluso Bezzecchi ha fatto sicuramente una grande gara ed è ancora una volta i migliori degli italiani quarto è l'altro italiano Fabio Di Gianantonio si risolleva Sam Loss che dopo due gare tra Francia e Italia orrende fa top 10 in due occasioni quinta posizione qui per quello che all'inizio sembrava il pretendente principale al titolo del mondo moto 2 cosa che poi invece non sarà visto comunque già l'ampio distacco da Gartner che comunque è a 164 punti e già Fernandez che sta facendo un campionato straordinario è soltanto tra virgolette a 128 tutti gli altri piazzamenti li vedete in grafica selezioniamo giusto gli italiani che sono finiti in zona punti a parte di Gianantonio l'unico a punti è Celestino Vietti con lo Sky Team VR46 quindicesimo tutti gli altri italiani sono veramente finiti anche una volta after the music come il livello della moto 2 non è propriamente altissimo tolto Gartner e Fernandez stesso discorso ancora una volta si può dire per la moto 3 perché ancora una volta vince questo ragazzo Pedro Acosta ormai ho finito gli aggettivi per questo pilotino della moto 3 che sta vincendo tutte le gare in tutti i modi possibili ha vinto dalla pitlane addirittura in Qatar ha vinto in tutti i modi possibili in volata ha vinto di gestione gara qui ha vinto una gara intelligente perché era nel gruppo della moto 3 e poi all'ultimo giro ha dato la zampata agli avversari che hanno dovuto raccogliere le briciole Acosta ancora una volta allunga in testa al mondiale e ricordo che Acosta è un classe 2004 è di fatto un rookie dunque ancora una volta per lui suona la marcia reale sono addirittura 145 i punti di vantaggio sul povero Sergio Garcia che finisce settimo in una gara di gruppo più che gare in realtà possiamo definirla tranquillamente un'ecatombe perché sono arrivati al traguardo soltanto 18 piloti sui 26 che ne erano partiti tanto è vero che per vedere la classifica e gli ultimi appunti bisogna aspettare gente che è caduta vedi per esempio Andy Farid e Darry Binder che è stato anche penalizzato peraltro per una sacrosanta bandiera nera per aver centrato e spedito fuori Joel Kelso pilota australiano sostitutivo da parte di Maximilian Kofler il podio della Moto3 lo completano Kaito Toba che comunque aveva vinto una gara in carriera in Qatar quando correva con KTM io primo podio in stagione per il giapponese terzo Dennis Foggia migliore degli italiani un grande esperto della Moto3 così come praticamente tutta la pattuglia dei pochi italiani che sono presenti in questa competizione che anche oggi hanno raccolto le briciole Dennis Foggia di fatto è un miracolato di questa gara della Moto3 perché appunto è stato penalizzato Karemi Alcoba per aver ecceduto troppo i limiti della pista Foggia comunque ringrazia c'entra il suo secondo podio in tre gara dopo aver vinto al Mugello sono 61 i punti per il pilota di Roma mentre il migliore degli italiani è Nicolò Antonelli quarto ma ha un'eternità di distacco da Pedro Acosta sono 65 i punti per il pilota di Cattolica mentre addirittura 145 per Acosta segno che ancora una volta il mondiale Moto3 forse peggio il mondiale Moto2 è un mondiale di bassissimo livello tolto Acosta che molto probabilmente il Moto3 farà un anno solo e l'anno prossimo lo vedremo in Moto2 molto probabilmente e mi auguro ancora con KTMI o nella speranza magari di fare una impresa che riesce veramente a pochi magari fare bella figura al mondiale Moto2 se non chissà vincerlo in ogni caso questo era il racing podcast complessivo per quanto riguarda le gare della Germania di domenica tra l'altro ancora una volta calendari di Formula 1 e MotoGP che saranno in contemporanea tant'è vero che ci sarà domenica il post gara per quanto riguarda la Formula 1 che correrà la prima delle due gare in Austria e poi come al solito martedì gran premio di Olanda per la MotoGP e anche lì ci sarà il post gara dedicato complimentoni veramente a FIA e FIM e Dorna per aver fatto i calendari contemporanei in modo che io possa fare due racing podcast separati mi auguro che in domani ci sia ancora più alternanza tra lui in modo che possa parlare bene di ogni singola disciplina ma questo probabilmente è uno sfoglio che escerà il tempo che trovo in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo racing podcast della vittoria di Mark Marquez mentre vi lascio con la classifica del campionato in tutto questo Quartarro che allunga su Zarco 131 punti per il pilota Yamaha e 109 per il pilota francese della Ducati Clienti e saluto da parte di MetroTorga ci vediamo domenica dunque col post gara del Gran Premio di Formula 1 prima delle due gare in Austria e ci vediamo dunque alle ore 19 mi raccomando rimanete sensualizzati su questo canale e ci vediamo